Buongiorno a tutti. Oggi cercherò di spiegare uno di quegli argomenti di matematica strettamente legati alla vita quotidiana, le percentuali. Si tratta di un argomento che, se non capito bene nella scuola in media, ahimè, forse non verrà compreso per tutta la vita ed è forse proprio per questa incomprensione da parte di molti su cui si basano alcune false pubblicità. Dove a noi sembra di fare un affare, che affare non è o perlomeno è meno affare. Innanzitutto il simbolo percentuale è questo e quando vi dico che spesso la gente si lascia un attimo incantare mi riferisco ad esempio a questa affermazione. Questo paio di pantaloni è svenduto con il 50% di sconto. Dopo 5 giorni 50% più 20%. La gente pensa che sia il 70% ma così non è. Ma andiamo un passo alla volta. Guardiamo questa immagine, molto significativa, che ci fa capire come le percentuali 75%, 25%, 50%, le frazioni 75% su 100%, 25% su 100%, 10% su 100% e i numeri decimali siano tre modi per indicare la parte del tutto. Ma il primo passaggio è questo, impareremo a capire che la percentuale può essere indicata con una frazione. Ed andiamo a fare degli esempi pratici. Vediamo, 50% in frazione possiamo scrivere 50% come 50 fratto 100. Ora, semplificando, sopra e sotto, otteniamo un mezzo. 10% 10 su 100 sono due scritte identiche. Semplificando per 10 un decimo. 20% 20 su 100 semplificando un quinto. 25% 25 su 100 uguale un quarto. 1% 1 fratto 100. Vediamo allora il 50% di 30. Sarà un mezzo di 30. Risposta rapida 15. Il 10% di 40 sarà un decimo di 40. Semplificando 4. Il 20% di 25 sarà un quinto di 25. Semplificando 5. Il 25% di 16 sarà un quarto di 16. 4. L'uno per cento di 300 sarà un centesimo di 300. Semplificando 3. Ma non dovete spaventarvi se non avete ancora, per forza, memorizzato questo, che comunque è bene mettere in evidenza. che il 50% corrisponde a un mezzo, che il 10% corrisponde a un decimo, e così via, che il 20% corrisponde a un quinto. Ok? Aspettate che metto qui i colori, perché non sono cose da memorizzare, perché voi lo potete ricavare, questi valori in frazione, in un qualsiasi istante, scrivendo la vostra frazione di partenza, 50 centesimi, ok? E poi, come dire, scusate che tolgo solo le sbavature, e poi semplificando il tutto. Ok? Però qualcuno di voi mi potrà chiedere, ma come facciamo a calcolare delle percentuali un po' più complesse? Vediamolo subito. Immaginiamo, ad esempio, di dover calcolare il 7% di 300. Io vi ho spiegato che 7% equivale a scrivere 7 centesimi di 300. Semplifico per 100, qui ottengo 3, voilà, 21. Il 28% di 200. Semplifico per 100, qui viene 2, 28 per 2, 56. 15% di 25. Semplifico per 25, qui 1, qui fa 4, viene 15 quarti, che come so è uguale a 15 diviso 4. Ora, 15 diviso 2 fa 7,5, ok? Quindi, 7,5 diviso 2, 7,5 se devo dividerlo per 2, il 2 nel 7 ci sta 3 volte, per 6, ne avanzo 1, il 7 nel 15 ci sta 7 volte, dovrebbe fare 3,75. Quindi, vedete che abbiamo imparato a trovare la percentuale di un intero utilizzando questa equivalenza, cioè trasformando quella che è una percentuale scritta con il simbolo percento in una frazione avente come denominatore 100. Quindi, il 28%, la nostra frazione è 28 su 100 del mio intero e anche qui, come nella parte iniziale, il 15% in 15 centesimi. Quindi, il mio consiglio è prendere appunti un po' sul quaderno, memorizzare le percentuali più semplici, 50% un mezzo, 25% un quarto, 20% un quinto e invece per le altre eseguire con calma i calcoli. Provate già anche quando andrete a fare la spesa. Questa è la prima lezione, ci sentiamo prestissimo. Questa è la prima lezione, ci sentiamo prestissimo. Questa è la prima lezione, ci sentiamo prestissimo.